Coach, domenica si torna in campo, un'altra partita, inutile ripeterlo, difficile, bisognerà vedere un cambio da parte della Blue Volley, soprattutto dal punto di vista mentale. Sì, bisogna giocare le partite con l'intensità che abbiamo avuto contro Sora, soprattutto primi due set. Milano è una squadra che dopo le difficoltà iniziali ha cominciato a giocare sempre meglio e nonostante la battuta di Aresto contro Siena, che altrettanto è una squadra di ottimo livello, mi aspetto come sempre la loro miglior prestazione. È rientrato anche Abdelaziz che fino alla partita scorsa non ha giocato, per cui saranno sicuramente tutti al completo e vogliosi di fare tre punti, per cui ci aspetta come ogni domenica una battaglia e noi dobbiamo dal nostro canto fare tutto possibile per fare la nostra miglior partita, poi dopo il verdetto finale lo darà il campo. Ecco, una Milano in crescita rispetto all'inizio, il recupero di Abdelaziz, l'arrivo di Irsh, sarà una partita molto molto difficile anche perché c'è la voglia di rivalsa a parte gli avversari. Sì, è una squadra comunque con dei giocatori di classe mondiale, nel senso che sono i stranieri che giocano nelle nazionali, che disputano dei mondiali, olimpiadi e questi tornei qua con grande qualità, per cui come ho detto hanno preso condizione, hanno cominciato a giocare sempre meglio, per cui ovviamente è una squadra che è alla pari nostra, alla pari di Monza, alla pari di Siena, alla pari di Padova, quindi siamo tutte squadre che sono lì, che combattono per il quinto posto.